Di panchina in panchina, a fianco di uomini che hanno fatto la storia della palla canestro, non poteva che raggiungere quella della nazionale. Un palmares di assoluto prestigio e un record di 43 vittorie su 44 partite in campionato. Questo è solo uno tra gli indicatori della capacità tattica ed emozionale che riesce ad esprimere. Benvenuto tra gli ambasciatori, Toscanissimo Simone. Per la categoria promozione dello sport, Simone Pianigiani! Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. All'allenatore della Montepaschi Siena, nonché commissario tecnico della nazionale italiana di basket, dove posso cominciare con lei? Non so da dove cominciare, dai quattro scudetti consecutivi chiedendole magari dove si trovano ogni anno le motivazioni giuste per ricominciare a riconfermarsi e non avere un senso di appagamento? Sì, sono molti a fare questa domanda, ma poi in realtà il segreto dello sport è molto semplice, come molti personaggi illustri che mi hanno preceduto qui sul palco hanno già detto, ci vuole qualcosa di speciale, una chimica particolare per vincere, rivincere e continuare a farlo. E questo non è un allenatore che infonde qualcosa, ma è un insieme di tanti elementi, un gruppo di giocatori straordinari. Ormai oggi anche un gruppo di persone che sta intorno alla squadra e ai tecnici, perché come giustamente stavo detto prima, in qualsiasi campo della vita si vince solo facendo squadra oggi e per vincere a lungo devi avere una grande squadra intorno ai giocatori e all'allenatore. Ecco, parlando della grande squadra, lei ha perso dei pezzi pregiati, no? In quest'anno qualcuno oggi scriveva con la partenza di Sato, Siena è un po' meno imprendibile. Beh, ma insomma, sono tante definizioni giornalistiche, è chiaro che rinnoveremo molto, è anche vero che c'è un'etica di lavoro, un modo di stare in campo, che è quello che ci portiamo dietro, che continua, che sarà patrimonio indipendentemente che cambino giocatori o prima o poi anche l'allenatore, ma che questo club avrà a lungo e quindi credo che questa sia la cosa importante, perché il modo con cui si sta in campo è pensare solo a essere ogni giorno migliori del giorno prima, come dico spesso, che ti fa non pensare a quello che hai vinto, ma ti fa guardare avanti e dare il massimo ogni volta che vedi le righe del campo, ogni volta che vedi un pallone, un canestro o di qualsiasi altro sport. Ci sarà un mondiale anche nel basket, noi però lo guarderemo. Sì, noi siamo un inizio quest'anno, non solo io, ma tutto un nuovo staff di lavoro e una generazione di giocatori che in questo momento entra nella fase più importante della sua carriera, della sua maturità e quindi ci vorrà qualche anno di lavoro, ma è una generazione di giocatori che vuole crescere a livello continentale, vuole tornare a giocare le grandi competizioni. C'è uno spirito importante che vedo fin da questi primi giorni, quindi nello sport non si costruisce tutto in un attimo, ma insomma si sente un feeling particolare, per cui mi auguro che se non adesso ma nel prossimo futuro la paracanestro italiana torni a livello anche di nazionale, a livelli che merita, per quello che sa esprimere e che ha espresso in tanti anni. Il record di 43 vittorie su 44 partite è un fardello pesante da portare? No, direi che ne abbiamo battuti tanti in questi anni, ma come dicevo prima non sono quelli che contano, poi lo sport ti dà l'emozione di essere lì ogni volta, come qualcuno ha detto alla fine credo se chiediamo a tutte queste persone quello che vinci è una cosa che rimane lì, che ti dà tanto, sono serate speciali, straordinarie anche come stasera, in un contesto così lo sport ti fa vivere queste emozioni, come a me da Toscano, da Senese fa particolarmente piacere, però poi dopo pensi subito a come ti vuoi allenare il giorno dopo e finché hai questo fuoco puoi continuare a farlo. I record non ci pensi mai, quando scendi in campo pensi a superare chi è davanti e questo è anche credo il senso del fair play, voler superare ogni volta chi è davanti a te, voler quando finisce però finirla lì, con poca dietrologia, poche storie e pochi discorsi. Grazie, un grande applauso a Simone Pianeggiani, un applauso anche a voi tutti che state qui, ci state seguendo, state rendendo ancora più bella questa splendida piazza. E allora prendiamo il premio fair play e lo prenderemo dalle mani di Alberto Milli e poi il dottor Sergio Bedessi, comandante Polizia Municipale di Cortona, le consegnerà il diploma Buonasera.